Musica Le 18.32, buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV2000. In primo piano la sofferenza di Venezia, una città in ginocchio. Si cominciano a fare le prime stime dei danni e c'è preoccupazione per la situazione meteo delle prossime ore. E' proprio a Venezia il nostro inviato, Massimiliano Cochi. Buonasera Massimiliano, già ti vediamo. Buonasera Clara, è stata un'altra giornata difficile per Venezia che si è svegliata sotto l'acqua alta che poi durante il giorno è defluita e ha dato la possibilità, come dicevi tu da studio, di cominciare a fare una prima stima dei danni che sono pesantissimi alle abitazioni, innanzitutto le abitazioni del piano terra, soprattutto nella zona della Giudecca e dell'isola di Pellestrina. Tanto che la Chiesa locale ha messo a disposizione delle persone che ne avessero bisogno 70 posti letto tra la Caritas e il seminario diocesano. Sono pesantissimi i danni anche per il commercio, con moltissimi negozi che hanno perso tutto, moltissime attività commerciali che sono ancora chiuse. E sono pesantissimi i danni anche per il patrimonio culturale di questa città che è ingentissima, a cominciare dalla Basilica di San Marco, qui dietro alle mie spalle che vedete. Allora vediamo nel servizio che vi abbiamo preparato la cronaca di questa giornata, al termine la linea può tornare allo studio. Dietro i turisti che scattano selfie e suggestive foto ricordo c'è il dramma dei commercianti di Venezia. Lottano contro l'acqua della laguna che per il terzo giorno consecutivo è entrata in città. Il bar di Alessia tra frigoriferi bruciati, lavastoviglie e macchina del caffè ha circa 50.000 euro di danni. Come sempre in Italia non sappiamo quando arriveranno gli aiuti. Abbiamo sette dipendenti, tutti hanno il mutuo di casa e senza contare che abbiamo un magazzino con tre freezer industriali che è completamente inagibile. Radi è tunisino e da 25 anni gestisce questo ristorante vicino al ponte di Rialto. Oggi con grande difficoltà è riuscita a riaprire. Chiediamo solo una cosa sola del nostro proprietario di muri. Si possono saltare un mese, due mesi di affitto, chiediamo solo questo. Il governo ha promesso aiuti subito, 5.000 euro ad ogni famiglia che ha avuto la casa danneggiata e 20.000 euro ad ogni attività commerciale, ma servono aiuti subito anche per mettere in sicurezza il patrimonio artistico a cominciare dalla Basilica di San Marco, simbolo di questa città bella e fragile. Le acque alte non producono danni, come dire, clamorosamente visibili. È come un po' esporsi a delle radiazioni. Uno si espone a dei raggi X, magari con una quantità pesantissima e il giorno dopo dice ma io non ho niente. E poi dopo due giorni però cominciano a cadere i capelli e dopo una settimana cadono i denti e così via. Qui nella notte tra martedì e mercoledì era tutto sott'acqua, in particolare la cripta e le tombe dei patriarchi. La preoccupazione della Chiesa oggi però è tutta per la popolazione. C'è una grande sofferenza, c'è grande coraggio, attendiamo delle risposte, delle risposte che solo la politica nazionale può dare. E così si torna a parlare del MOSE, del sistema di dighe mobili a difesa della laguna dalle maree, mai entrato in funzione tra polemiche, inchieste giudiziarie e costi esorbitanti. Caterina Dall'Olio. 2014, 2018, 2021. Non sono i numeri dell'otto ma le date di scadenza del MOSE. Alcune passate da tempo e disattese, come si sa. L'altra, quella del 2021, è la nuova deadline annunciata oggi dalla ministra Paola De Micheli. I fatici dicono che del MOSE, il cui battesimo di cantiere risale al 2003 e il cui progetto preliminare venne terminato nel 1992, non è ancora mai stato effettuato un collaudo. Non solo quindi manca l'intera barriera di Lido Nord con l'installazione delle altre paratoie, ma poi bisognerà vedere se tutto il resto, a mollo nell'acqua marina da anni, funzionerà. Ricordiamoci che nella bocca del porto Lido Treporti, al primo test di sollevamento del 2016, le paratoie non sono più riuscite a rimettersi nei loro alloggiamenti. Si erano accumulati troppi sedimenti alla base. E poi, chi lo farà funzionare? La storia non è favorevole all'affermazione della ministra. C'è da dire, però, che i colpi di scena nella storia del MOSE non sono mancati. Basti pensare che sono passati ormai cinque anni da quando il Consorzio Venezia Nuova, preposto al coordinamento dei lavori, è stato commissariato perché i suoi dirigenti sono stati indagati per aver ricevuto fondi illeciti. Da 2014 si sono alternati tre amministratori speciali del governo, ma c'è ancora molto da fare. Il conto è più salato di un caffè a San Marco, sei miliardi e mezzo di euro. Speriamo che la nuova supercommissaria Elisabetta Spitz, laurea in architettura, e una lunga esperienza all'interno della macchina pubblica, porti a termine il tutto. E il governo interviene con i primi provvedimenti urgenti per Venezia. Due giorni dall'alluvione, Consiglio dei Ministri per decretare lo stato di emergenza e distanziare i primi fondi. Augusto Cantelmi. Ci sono due fasi. La prima fase ci consentirà di indenizzare privati ed esercenti commerciali, sino a un limite ai privati di 5.000 euro e gli esercenti commerciali sino a un limite di 20.000 euro. Questi soldi potranno arrivare subito e ovviamente saranno per risolvere i danni. Decreto d'emergenze e primi fondi fino a 5.000 euro per i privati e 20.000 per i commercianti. Via libera dal Consiglio dei Ministri alle prime misure su Venezia. Per il 26 novembre invece è stato convocato il comitatone interministeriale per la salvaguardia della città lagunare dalle grandi navi al Mose. E' proprio sulla struttura ancora non in funzione che avrebbe dovuto mettere al riparo Venezia. Da Conte arriva un'accelerazione, sebbene servono ancora almeno 400 milioni di euro. Il Premier Conte si concentra anche sulla manovra Palazzo Chigi convocato un super vertice con delegati dei partiti di maggioranza e membri del Governo per trovare coperture e risorse necessarie per rimodulare la tassa sulla plastica e sulle auto aziendali. Inoltre si prova a blindare gli emendamenti che interessano di più l'esecutivo in vista dell'inizio della discussione della settimana prossima alla Camera dal pacchetto famiglia alle misure anti-evasione. Ma sullo sfondo resta sempre la vicenda dell'ex Ilva. E proprio per l'ex Ilva sono ore di grande tensione. Convocato per domani un vertice d'urgenza al Ministero dello Sviluppo Economico con sindacati ed aziende. Il servizio è di Pierluigi Vito, poi il commento dell'ex segretario della Cisle, docente di diritto del lavoro, Raffaele Bonanni. La data fatale è il 15 gennaio 2020. Per quel giorno si spegnerà l'ultimo alto forno dell'ex Ilva di Taranto. Lo ha comunicato oggi l'amministratore delegato di Arcelor Mittal ai sindacati. Smentite dunque le voci che parlavano di un impegno dell'azienda fino a maggio. Una situazione che precipita nella più grande acciaieria d'Europa con i sindacati che lanciano allarmi parlando di un quadro drammatico per i 14.000 lavoratori dello stabilimento pugliese. Per fare un estremo tentativo di mediazione, il ministro dello sviluppo economico Patuanelli ha convocato per domani a Roma i vertici dell'azienda e di CGL, Cisle e Will. E sul tavolo del Mise c'è anche la questione delle 150 imprese dell'indotto che vivono all'ombra dell'acciaieria con 6.000 dipendenti e che vantano oltre 200 milioni di euro di crediti nei confronti di Arcelor Mittal. La richiesta è che vengano onorati il prima possibile, anche in considerazione dello shock che si creerebbe sul territorio se davvero la multinazionale franco-indiana fermerà gli impianti. Io spero che prevalga il buonsenso, perché il buonsenso in questa vicenda non c'è stato e stiamo nei guai. Noi non possiamo perdere l'acciaio, per motivi che sono stati spiegati tante volte e così via. Tutto il malsano che è venuto fuori dall'inguinamento e così, ci vogliono, ci vogliono anni e anni e anni. La pretesa che debba avvenire un solo giorno è una pretesa stupida, oltre che nociva. Quindi è una programmazione a lungo termine, come a lungo termine è avvenuto l'inquinamento di quella realtà. Poi c'è il problema del lavoro, perché è una comunità senza lavoro. Può anche bonificarla, non esiste più. Soprattutto nel Meridione, dove la realtà produttiva dell'Ilva è una realtà pesante, che ha creato un'economia tutta propria. In base alla sua lunga esperienza, manca nel nostro paese una politica industriale? Certo, manca una politica industriale, però bisogna mettersi d'accordo che significa una politica industriale. Il piano industriale significa quante tasse paghiamo per l'impresa. Il piano industriale significa quante professionalità la scuola e la formazione sforna per lavorare in una produzione. E poi vengono le tecnologie dentro la fabbrica, che poi è la cosa più facile. Il disegno industriale che tu credi è tutta una cosa di fabbrica, è la cosa più semplice che esiste. Che la fabbrica esiste solo se c'è un territorio che l'accoglie. E nella competizione internazionale e così via, un territorio che almeno non li fa pagare di più che in altri posti. Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Capo dello Stato, ha nominato Procuratore Generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi, attualmente Procuratore Generale di Roma. Prende il posto di Riccardo Fuzio, che a luglio si era dimesso dopo essere stato indagato dalla Procura di Perugia per rivelazione di segreto d'ufficio. A proposito dell'inchiesta sul PM romano Luca Palamara, il Consiglio Superiore, ha detto Mattarella, ha oggi più che mai, come sempre, il dovere di assicurare all'ordine giudiziario e alla Repubblica che le sue nomine siano guidate soltanto da indiscutibili criteri attenenti alle capacità professionali dei candidati. E veniamo alla cronaca, agli arresti domiciliari. L'ex europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, dovrà rispondere di corruzione, finanziamento illecito e truffa ai danni del Parlamento europeo. Marco Bergamaschi. Si terranno lunedì gli interrogatori di garanzia dei tre arrestati dalla Guardia di Finanza di Milano e Busto Assizio con le accuse a vario titolo di corruzione, finanziamento illecito e truffa. Ai domiciliari, Laura Comi, ex eurodeputata di Forza Italia e Paolo Origoni, amministratore delegato di una nota catena di supermercati e già candidato sindaco a Varese. In carcere, invece, l'ex direttore generale di Affol Metropolitana, Giuseppe Zingale. Gli arresti riguardano un nuovo filone dell'indagine mensa dei poveri che il 7 maggio portò a 43 misure cautelari per un presunto giro di tangenti e spartizione di appalti in Lombardia. Sarebbero state le dichiarazioni di uno degli indagati, l'ex coordinatore di Forza Italia, Varese Nino Caglianiello, a confermare un quadro accusatorio già emerso dai primi racconti di imprenditori indagati in procura da Publitz. Comi, secondo l'ordinanza di arresto, avrebbe sfruttato il proprio ruolo pubblico per ottenere il massimo vantaggio in termini economici tra le vicende che riguardano l'ex eurodeputata. La prima, in merito a contatti di consulenza ricevuti dalla sua società da parte della Affol, dietro a promessa, secondo gli inquirenti, di cessione di una parte agli stessi Caglianiello e Zingale. Nel secondo episodio avrebbe ricevuto, in vista delle europee, un finanziamento illecito da 31 mila euro da una società dell'industriale presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, già indagato. Il terzo episodio, infine, riguarderebbe una truffa aggravata al Parlamento europeo. Ci spostiamo in Medio Oriente, non regge la tregua. Nonostante il cessato e il fuoco annunciato, i razzi sono stati lanciati da Gaza verso Israele. Da Gerusalemme la corrispondente, Alessandra Buzzetti. Una tregua a metà sul confine della striscia di Gaza. L'accordo per un cessato e il fuoco raggiunto questa notte al Cairo con la mediazione delle Nazioni Unite è stato rotto sia in mattinata che nel pomeriggio dal lancio di sei razzi contro Israele. Più di 450 quelli sparati in 48 ore per vendicare il comandante della Jihad Islamica, ucciso dall'aviazione israeliana lunedì notte e gli altri miliziani eliminati nei raid successivi. Questo è un crimine, una catastrofe ai bambini. Il più grande aveva 14 anni, dice Falah, davanti alle macerie della casa di Ramzi Aboumhalus, a capo, secondo Israele, del gruppo che sparava missili da una zona centrale di Gaza. Con lui sono morti la moglie e i sei figli. 34, il bilancio delle vittime palestinesi, di cui 20 terroristi, secondo il ministro della difesa israeliano, che annovera tra i successi dell'operazione anche il non coinvolgimento di Hamas nei combattimenti. È vero che al momento una escalation militare non conviene ad Hamas, alle prese con una nuova fase di confronto con le altre fazioni politiche palestinesi e con la necessità di non bloccare l'afflusso di denaro che arriva dal Qatar a sostegno degli abitanti della striscia. Non passerà più di un mese. Torneremo alla routine dei missili, della corsa nei rifugi, della paura dei bambini, dice Meire, da Sderò, a ridosso del confine con Gaza. Con tutto il desiderio di un cestato il fuoco, non sono così contento. Ed ora negli Stati Uniti si sono concluse alla Camera dei rappresentanti le prime audizioni pubbliche per l'impeachment contro il presidente Trump. Marco Burini. Come ha reagito Trump alle prime audizioni pubbliche sull'impeachment? Ridicolizzando i testimoni e parlando d'altro. Per lui questa faccenda della messa in stato d'accusa è una montatura dei democratici e le testimonianze di ieri dell'ambasciatore americano in Ucraina, William Taylor, e del funzionario George Kent del Dipartimento di Stato, durate in tutto sei ore, non meritavano di essere viste neanche un minuto. «Sono rimasti immobili, con lo sguardo assente e in silenzio, incapaci di rispondere. A una persona normale dovrebbe bastare per porre fine al caso», ha twittato. Taylor, in realtà, ha raccontato che Trump, lo stesso giorno in cui telefonò al presidente ucraino Zelensky per chiedergli di indagare sul figlio di Biden, telefonò anche all'ambasciatore statunitense presso l'Unione Europea, Sondland, per capire l'umore degli ucraini sulla vicenda che ha innescato la procedura di impeachment. Kent, invece, ha detto che le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina hanno risentito delle pressioni fatte a Zelensky dall'avvocato personale di Trump, Rudolf Giuliani. Da parte sua, Trump in queste ore esulta per il nuovo record di Wall Street e litiga per l'ennesima volta con il capo della Federal Reserve che si ostina a non tagliare i tassi. Lui, invece, si ostina da otto anni a non comunicare la dichiarazione dei redditi. I democratici sospettano che abbia gonfiato il valore delle sue proprietà per ottenere prestiti. Ma un giudice di Washington ha appena respinto il suo ricorso. Subito, però, uno dei suoi avvocati ha detto che la decisione verrà impugnata davanti alla Corte Suprema, dove la maggioranza è repubblicana. La morte di Stefano Cucchi, i due carabinieri, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo, appunto, per la morte del giovane. L'altro carabiniere, l'imputato teste Francesco Tedesco, è stato condannato a due anni e sei mesi per falso, mentre è stato assolto dall'accusa di omicidio preterintenzionale. Condannato a tre anni e otto mesi per falso, anche il maresciallo Roberto Mandolini. Queste le sentenze emesse poco fa dai giudici della prima Corte d'Assise di Roma. In un altro procedimento, sempre oggi, sono arrivate una soluzione e quattro prescrizioni per cinque medici dell'ospedale Sandro Pertini, coinvolti nella medesima vicenda. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. Ed ora in Vaticano, forte l'esortazione, questa mattina di Papa Francesco a tutta la società a proteggere i minori nel mondo digitale. L'appello più urgente lo rivolge alle imprese chiamate a garantire la sicurezza. Cristiana Caricato. Vogliamo bandire dalla faccia della terra la violenza e ogni tipo di abuso nei confronti dei minori. Guardiamoli negli occhi. Sono le vostre figlie, i vostri figli. Dobbiamo amarli come capolavori e figli di Dio. Hanno diritto a una vita buona. Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile perché la abbiano. una chiesa più consapevole segnata nel corpo dal dramma degli abusi chiama ad un'alleanza globale per tutelare i minori in rete. Francesco, con un discorso documentato e ampio, apre la riflessione di scienziati, tecnici, imprenditori e legislatori, politici e leader religiosi intorno ai rischi per i bambini nella rete digitale. Un lavoro iniziato due anni fa a Roma con tappa da Abu Dhabi. Pornografia in crescita vertiginosa nel web denuncia il Papa. Minori sempre più esposti con l'età media di accesso a contenuti pornografici che si abbassa ad 11 anni e aziende ed ingegneri che non fanno abbastanza per collaborare con i genitori. Nodo da sciogliere il rapporto tra tutela della privacy e uso responsabile delle tecnologie. Francesco chiede ai legislatori di obbligare le imprese a verificare l'età dei clienti. I mezzi non sono neutrali incalza il Papa che invoca un'algoretica capace di contrastare l'uso perverso della rete. Poi si rivolge alle aziende. Senza il pieno coinvolgimento delle società del settore senza una piena consapevolezza delle ricadute morali e sociale della loro gestione e del loro funzionamento non sarà possibile garantire la sicurezza dai minori nel contesto digitale. Il Papa ha nominato il Gesuita Juan Antonio Guerrero Alves a capo della Segreteria per l'Economia. Consigliere generale della Compagnia di Gesù Padre Guerrero Alves sostituisce il Cardinale George Pell. Libertà di scelta educativa in Italia e in Europa se ne è parlato oggi pomeriggio a Roma con il Cardinale Bassetti. Al Presidente della CEI i giornalisti hanno chiesto anche un commento sulla situazione a Venezia. Leonardo Possati In Italia il sistema scolastico è ugualitario sulla carta ma nei fatti non consente ancora di superare le differenze di partenza tra gli studenti legati al contesto familiare e sociale anzi le consolida. La denuncia arriva dal rapporto Oxe pubblicato in settembre e citato dalla Presidente del Senato Casellati la scuola italiana soffre ancora di troppe diseguaglianze perché manca la vera parità che altri paesi invece riescono a garantire tra scuola statale e non statale. Finché le famiglie italiane non avranno questa scelta educativa vera non eserceranno fino in fondo la loro libertà educativa io lo dico in senso laico e non in senso religioso. Noi non avremo una scuola paritaria finché non ci sarà anche un adeguamento economico. Non è un caso che negli ultimi anni siano scomparse circa mille scuole cattoliche su un totale di 9.000 e si siano persi oltre 160.000 alunni dati che manifestano la crisi in cui versano molte scuole cattoliche senza le quali è doveroso sottolinearlo il sistema scolastico italiano non starebbe in piedi. Al termine del convegno organizzato a Roma sulla libertà della scelta educativa il Cardinal Bassetti fermandosi con i giornalisti ha rivolto il suo pensiero anche alle drammatiche ore che sta vivendo Venezia. L'Italia ha un terreno fragile è fragile il terreno come sono fragili i suoi abitanti quindi bisogna avere delle precauzioni particolarissime adesso è il tempo di attuare perché i progetti belli ci sono ora è il tempo di attuarli. Quindi a Venezia ci sono anche delle responsabilità politiche insomma al di là o diciamo ognuno tiri le sue conseguenze e faccia il suo esame di coscienza. È stata presentata oggi alla stampa la Ferrari Roma nuova coupé della casa di Maranello caratterizzata da un design senza tempo da una spiccata raffinatezza e dalla capacità di regalare emozioni uniche grazie al suo stile tipicamente italiano la vettura reinterpreta in chiave contemporanea lo stile della città eterna tipico degli anni 50 e 60 caratterizzato dalla spensieratezza e dal piacere di vivere come ulteriormente sottolineato dal suo nome evocativo. Ci fermiamo qui nel nostro TG Post la giornata mondiale delle vittime della strada che si terrà domenica prossima TG 2000 torna alle 20 e 30 restate con noi buona serata.